ciao ragazzi di aispazio siamo giunti al termine di questa grande fiera di questo mobile world congress 2014 allora questo video serve diciamo per fare un sunto di quello che abbiamo potuto vedere dall'edizione di quest'anno vogliamo condividere con voi le ultime novità e per chi non ha potuto seguire tutta la fiera minuto per minuto diciamo ora per ora con il nostro live questo video serve proprio a riassumere per sommi capi tutto ciò che di importante è accaduto sono stati presentati nuovi device in primis chiaramente ne avrete sentito parlare sicuramente è samsung è stata protagonista con il suo samsung galaxy s5 oltre a questo dispositivo è stato presentato anche il gear 2 ed il gear fit questi dispositivi li abbiamo visti chiaramente subito dopo l'uscita potete vedere cliccando sul link in sovraimpressione il nostro hands-on che è avvenuto in fiera poi un'altra società che ha presentato la sua nuova line up per il 2014 è stata sony con l'experia z2 lo z2 tablet e lo smart wear da polso quindi anche qui abbiamo oggetti indossabili che vanno molto di moda insomma diciamo il trend per dispositivi elettronici indossabili ormai sta prendendo piede chi altri di importante abbiamo huawei che ha presentato ben quattro dispositivi e anche la società cinese ha annunciato la disponibilità di un di una sua banda da polso quindi indossabile con la particolarità che fa anche da auricolare abbiamo zte con qualche piccola novità e abbiamo visto anche società magari non proprio conosciutissime come iota e che hanno presentato i loro nuovi devices anche giolla con selfish os ovvero un nuovo sistema operativo diciamo una nuova interfaccia grafica ed un nuovo telefono ovviamente e allora andiamo con ordine queste sono le nostre impressioni sulla fiera samsung galaxy s5 potrebbe essere per alcuni forse una delusione perché perché si diceva si dicevano cose che poi non si sono realizzate quello che pensiamo noi invece che semplicemente ci sia stata un progresso naturale del dello sviluppo del dispositivo nessuna novità particolare a parte il sensore di battito cardiaco che potete vedere nella recensione diciamo nella video anteprima il lettore di impronte digitali che era stato preannunciato dal punto di vista estetico nessuno stravolgimento particolare solamente la cover posteriore che è stata diciamo migliorata migliorata parecchio rispetto ai suoi predecessori perché se avere la possibilità di sentirla dal vivo scoprirete che il feeling tattile è di molto migliorato e anche l'eventuale resistenza graffi noi pensiamo però niente diciamo di assolutamente nuovo registrazione di video in 4k certamente effetti speciali per la fotocamera particolari la cosa nuova diciamo quasi totalmente nuova è il samsung gear fit invece una piccola banda un piccolo braccialetto da mettere al polso con display curvo super amoled molto molto carino anche quello ha il sensore di battito cardiaco integrato quindi diciamo vi può seguire costantemente in tutte le attività fisiche anche l'accelerometro il giroscopio per vedere come dormite quanto correte con tapassi quindi podometro e queste cosette qui quello è un dispositivo davvero molto carino a noi è piaciuto tantissimo il display sembra essere visibilissimo anche sotto la luce del sole c'è una cosa che speriamo arrivi con i nuovi aggiornamenti del firmware ovvero il fatto che quando alzate il polso l'ora venga visualizzata in orizzontale altrimenti è un po' difficile poter vedere l'ora perché dovete fare o così o così ma tanto sono delle piccole cosette che possono essere risolte facilmente da samsung attraverso un aggiornamento software posteriore a questa data insomma il gear invece 2 è anche molto carino il gear 1 era quasi un device in beta adesso invece con con le nuove con gli nuovi sviluppi sembra che samsung stia facendo seriamente infatti è stato rilasciato un sdk per tizen gli sviluppatori di terze parti possono sviluppare software tranquillamente c'è un marketplace appositamente progettato per il gear 2 abbiamo visto già che al lancio esistono parecchie applicazioni erano pre installate nelle demo messe a disposizione da samsung quindi diciamo che da questo punto di vista brava samsung sta innovando dal punto di vista dei dispositivi indossabili sony passiamo a sony ripeto che quando nomina un prodotto tanto noi li abbiamo provati tutti apparirà il link in sovraimpressione sul quale potete cliccare andare direttamente al diciamo alla video anteprima dicevo sony ha presentato anche anch'essa la nuova line up c'è stato lo z2 ricorderete z l'anno scorso sempre qui a mobile world congress z1 nel corso di quest'anno e a questo punto z2 z2 è molto carino davvero molto bello dal punto di vista della costruzione secondo noi uno dei migliori dispositivi presentati al mobile world congress 2014 forse il migliore in assoluto perché è costituito da un frame di alluminio scavato dal singolo pezzo quindi per dirla l'apple unibody ha due lastre di temperate sul fronte sul dietro come il samsung galaxy s5 ma questa non è una novità assoluta per sony è resistente a acqua e polvere certificazioni ip67 vuol dire e certificazione all'ingresso di polvere e all'immersione in acqua quindi proprio immersione ovvero 30 minuti fino a un metro non si tratta solo di schizzetti e cose così potete proprio farci le foto sott'acqua portarvelo al mare se non avete il coraggio lo sconsigliamo anche samsung diciamo lo sconsigliava quindi però sappiate che resistono all'acqua insomma sono stati certificati registrazione di video in 4k display bellissimo full hd e che altro dire poi c'è il suo cugino il cugino diciamo la sua estensione tablet anche quella davvero carinissima il tablet anche resiste all'acqua e alla polvere una cosa assolutamente bella è molto fino alla cover non in materiale diciamo vetroso come come lo z2 ma di plastica ma pensiamo che sia una scelta diciamo abbastanza azzeccata perché se vedete la grandezza del tablet capite che fare una lastra di vitro così grande in primo luogo avrebbe minacciato la resistenza del tablet stesso e secondo poi avrebbe sia appesantito il tablet che pesa pochissimo per per tutte le cose che ha e per quanto è resistente diciamo alle intemperie e che poi è veramente fino sony ha presentato anche la sua smart band smart wear anzi scusate è costituita da una smart band e un core quindi potete togliere il piccolo core che è un piccolo apparecchetto così anche quello resistente agli schizzi all'acqua insomma e potete cambiarvi la bandina con quella che più preferite un sacco di produttori già di accessori di abbigliamento avevano già presentato dei dei braccialetti compatibili proprio con questa smart wear le funzionalità chiaramente non avendo il display ma solamente qualche piccolo led sono un po più limitate rispetto alla controparte samsung ad esempio possiamo farci fare possiamo usarla come telecomando per la macchietta fotografica segue le nostre attività quindi monitor del sonno monitor delle attività podometro e queste cose qui parliamo di huawei huawei ha presentato un tablet davvero carino ovvero l'x1 è un tablet economico oddio economico comunque si economico diciamo huawei come saprete non è che abbia dei prezzi poi esageratamente alti però c'è da dire che da quello che abbiamo visto sembra essere un tablet ben fatto abbiamo qualche dubbio sul design non assolutamente originale era un po una via di mezzo tra fronte e retro tra htc one e apple iphone 5 poi cos'altro vi diciamo vi diciamo che sempre huawei la società cinese ha presentato una bandina un braccialetto scusate per la traduzione imprecisa dall inglese tra band e braccialetto il b1 il b1 è molto carino perché è particolare cosa può fare è in realtà un auricolare bluetooth auricolare bluetooth che si inserisce in un braccialetto da polso e si monitora i nostri spostamenti quindi ipodometro monitor del sonno e via discorrendo ma la cosa interessante che non abbiamo visto né da samsung né da sony samsung ha diciamo sul gear 2 un un viva voce nel telefonino nel nell'orologio scusate huawei invece ha deciso di farlo di fare un auricolare bluetooth vero e proprio ovvero voi avete l'apparecchio al polso lo togliete lo staccate ve lo mettete all'orecchio fate la chiamata quando la chiamata è finita lo levate e lo rimettete dentro fine ha presentato anche un telefono molto economico diciamo media gamma ovvero il g6 ma non c'è da gridare al miracolo da questo punto di vista un'altra cosa interessante è stato invece lo yota phone 2 questo è stato davvero forse la cosa più sorprendente che abbiamo visto ovvero cos'è è un telefono che sul fronte è normalissimo uno schermo tasti capacitivi e android 4.4 in forma rotondata carino anche un po' anonima diciamo sul retro invece ha uno schermo ad inchiostro elettronico ovvero come l'amazon kindle proprio esattamente di quel tipo in più non contenti i russi della yota hanno deciso di integrare sul retro del del dispositivo oltre a questo schermo anche un touch capacitivo ovvero è possibile controllare anche con il telefono spento scusate in standby quindi bloccato il quello che viene visualizzato sullo schermo dietro con le proprie dita cioè invece di usare il telefono dalla parte fronte giriamo il telefono e cosa possiamo fare possiamo vedere in un attimo l'agenda chiaramente i tempi di refresh dello schermo non sono quelli di uno schermo lcd normale ma sono quelli di uno schermo ad inchiostro elettronico quindi non è che ci possiamo vedere un video per esempio possiamo leggere un libro yota dichiara un'autonomia scusate intorno alle 50 ore per la sola lettura con la parte android in standby possiamo vedere gli appuntamenti del giorno del mese della settimana possiamo anche addirittura usarlo come lettore di notizie diciamo tutto dipende dall'applicazione di yota che poi subirà degli aggiornamenti successivi che integrano mano mano sempre nuove funzioni che fa parlare la parte android cioè diciamo che fa parlare android quindi il telefono in sé con il retro del dispositivo e ricordiamo il retro del dispositivo che non consuma assolutamente batteria quando visualizza un'immagine fissa consuma batteria solo nel momento in cui che ne so scorriamo la pagina di un libro oppure decidiamo di cambiare lo sfondo del retro così poi c'è anche stata lg con il g pro 2 molto molto carino un fablet davvero interessante possiamo dirlo sembra purtroppo che per ora non verrà distribuito in italia non lo sappiamo ancora speriamo venga distribuito perché sembrava davvero ottimo c'è da dirlo costruzione buona sempre materiale plastico per quanto riguarda il retro tuttavia se ricordate lg ogni tanto ha avuto qualche problemino di costruzione in questo caso non sembrano esserci particolari problemi la fotocamera davvero strepitosa uno stabilizzatore d'ottico uno stabilizzatore d'immagine ottico più digitale c'era una demo molto carina con tre mani un iphone un note 3 e un g pro 2 che mani che vibravano contemporaneamente riprendendo lo stesso soggetto e effettivamente l'abbiamo potuto anche provare poi andatevi a vedere la l'anteprima effettivamente il g pro 2 era quello che subiva meno i tremoli della mano anzi l'immagine risultava se non perfettamente ferma molto vicina diciamo alla stabilità assoluta dulcis in fondo c'è anche la questione nokia nokia con una diciamo con una conferenza stampa ecco interna al mobile world congress stesso ha confermato i rumor che si andavano rincorrendo negli ultimi mesi ovvero la presentazione del primo telefono prodotto e distribuito dalla casa finlandese che fosse equipaggiato da android di google e si è realizzato i rumor sono stati verificati ovvero nokia ha presentato la serie x x più e xl prezzi 89 euro 99 euro 109 euro cosa cambia x e x più sono più o meno uguali cambia la ram e il fatto che all'interno dell'x più ci sia una scheda micro sd da 4 gigabyte xl invece lo schermo più grande 5 pollici è un po più performante perché la stessa ram dell'x più diciamo ma la particolarità di questi dispositivi oltre diciamo al prezzo perché 89 99 e 109 sono prezzi veramente d'attacco è che per la prima volta nokia ha prodotto un telefono con android non esattamente android al quale siamo abituati quindi play store e tutte queste cose qui ma android diverso ovvero nokia ha preso la base del codice di android la base open source quindi senza alcun servizio di google che come qualcuno di voi saprà invece è a fonte chiusa l'ha personalizzato ovvero ha creato uno strato di interfaccia che richiama molto poco android anzi è molto più vicino a windows phone perché ci sono tutte le piastrelle insomma se vedete la recensione mi rendete subito conto notate subito subito la somiglianza tra questa versione di android made in finlandia e invece windows phone e oltre a fare questo però non è stata stupida ovvero ha detto sì prendiamo android ci mettiamo la nostra interfaccia però che cosa facciamo diamo la possibilità agli utenti di utilizzare tutto il parco applicazioni di android non tramite il google play store tramite il nokia store che però può essere diciamo espanso tra virgolette scaricando altri market alternativi ad esempio chi utilizza dispositivi android conoscerà sicuramente aptoide ecco ha detto steven elop che la compatibilità con le applicazioni android è praticamente quasi immediata servono delle piccolissime modifiche non meglio specificate che sicuramente saranno specificate più avanti che possono essere fatte tranquillamente con l'Sdk messo appositamente a disposizione da nokia stessa e quindi virtualmente abbiamo che con un nokia x da 89 euro prodotto da nokia appunto un utente può senza alcun problema utilizzare tutte le applicazioni del mondo android senza che gli sviluppatori debbano riscriverle per diciamo non so windows phone ad esempio e sappiamo il divario che c'è tra il parco applicazioni di android e il parco applicazioni invece di windows phone diciamo c'è una bella forbice che separa i due numeri quindi anche nokia diciamo è stata anche se non dal punto di vista top di gamma con annunci esaltanti o esuberanti come come samsung oppure simili ad esempio sony però comunque il suo l'ha fatto è stato presentato anche un'ascia veramente un'ascia e il nokia 202 anche l'ascia 203 e il nokia 202 scusate 220 230 sì scusate a prezzi veramente bassissimi e la cosa carina e interessante è che con quei prezzi bassissimi prezzi che veramente di solito sono associati a feature phone ovvero telefoni che sostanzialmente chiamano hanno la radio e poco altro invece con quei telefoni diciamo no che si si è prefissa l'obiettivo di portare internet a milioni di persone infatti possono navigare su internet tranquillamente e niente queste qui sono le novità che ci sono state durante questo mobile world congress 2014 noi l'abbiamo seguito noi dai spazio qui da barcellona in diretta potete andare a rivedere tutti i video sul nostro canale di youtube anche sul nostro sito www.aispazio.net è disponibile diciamo la cronistoria all'indietro di tutto quello che abbiamo fatto di tutto quello che abbiamo visto ci sono tutti gli articoli che accompagnano anche i video per tutti i nuovi prodotti che sono stati presentati ci vediamo noi al mobile world congress 2015 che si terrà dal 2 a 5 marzo dell'anno prossimo del 2015 ovviamente speriamo ci vediamo anche prima chiaramente durante il corso di quest'anno con altri video vi salutiamo ciao ragazzi ciao